Suonate, sentendo e facendo lo schifo, io non sarò meno di voi. L'introduzione, prego. Ehi! Anche a te, prego. Ha già dicendo lo dico. Donna! Datevo città, datevo due! Seguite, mi avete preso perché si mi attacca gli nervi, non so se lui a ramma a farnello. Galera! Galera! Prima che a me vengono, c'è una manetta che si spezzano, le spalline che assommano, le buttano che si chizzano, ci andranno i guardi con il cuore. Un abbraccio! Donna, che sei la bella della visione che ho faccio, la pubblica legge che sta facendo da me. Mi sento che vi ho provato pure il boccello. Coglio Maria, caglio il boccello. Donna, che sei la bella della visione che ho faccio, E' un sistema come questo esatto, un uomo che comune se non da me, si deve fraaaa Ganga, un abbraccio della gita dal bra, le svegliano gliai a ramma, che vista non sta faccia, ogni ora ciò non sta faccia, ma abbiamo fatto un bel 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 stato sta giù qua. E' un accendente. Ascendente! E' un buon giunno! Arsons. Fui il mace! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.